Il 2021 rappresenta un anno importante per Dante Alighieri e gli studi danteschi. Infatti il 2021, l'anno che stiamo vivendo, è il 750esimo anniversario della morte di Dante e quindi fioccano ovunque le commemorazioni, le celebrazioni, le rievocazioni. Tra l'altro il 25 marzo appena trascorso abbiamo celebrato il Dante Dì. Potremmo chiamarlo il Dante's Day, il giorno che ricorda l'inizio del viaggio di Dante nell'Oltretomba. Quello conosciuto da tutti per l'inizio della Divina Commedia, nel mezzo e cammin di nostra vita. E quindi un po' ovunque vediamo la pubblicazione di nuove opere, nuovi libri riguardanti Dante e il suo viaggio narrato nella Divina Commedia. Il profilo di Dante, con il suo naso aquilino, lo sguardo fiero e minaccioso, ci è di nuovo molto familiare e appare un po' ovunque, anche se è bene dire che molto probabilmente in realtà Dante non aveva quella faccia, ma anzi Dante aveva la barba. E questo perché ne parla il suo primo biografo Giovanni Boccaccio e perché abbiamo una prova, un dipinto che si trova nella sala del sindaco di Orvieto che ritrae Dante e proprio con la barba. in particolare che poi è stato cancellato, pare, perché la barba nella storia italiana era attributo dei rivoluzionari. Non si poteva parlare di un eroe patrio fondatore della nostra nazione in questi termini, come quelli di un barbuto rivoluzionario. E proprio su questo tema della fondazione dell'Italia da parte di Dante verte l'ultimo libro di Aldo Cazzullo, A rivederle stelle, che è uscito più o meno in concomitanza con l'altro grande titolo che ho già recensito, ne ho parlato qualche mese fa, che è la biografia, chiamata solo Dante, di Alessandro Barbero. Dante, il poeta che inventò l'Italia. Il sottotitolo del libro di Cazzullo è molto significativo e dice già tutto. Infatti Cazzullo, che è un giornalista che più volte si è occupato dell'identità italiana e che ha riflettuto su questo tema nei suoi libri, affronta Dante proprio da questo punto di vista. Dante per lui è il creatore dell'Italia così come noi la conosciamo e che precede la sua unità politica avvenuta solo 150 anni fa. Dante parla di un'Italia eterna, che esiste da sempre, e che è l'erede della classicità romana e che è anche la terra del papa e del cristianesimo. Cazzullo crede in un principio estremamente romantico, che cioè l'Italia sia nata dall'arte e dalla bellezza, e non dagli accordi diplomatici o politici. Quindi Cazzullo affronta l'inferno con un taglio divulgativo, semplice ed esauriente, facendo incontrare Dante con tutti i personaggi della sua contemporaneità, del passato, della classicità, anche personaggi mitologici, e quindi i famosissimi Paolo e Francesca, Brunetto Latini, Farinata degli Uberti, Pier delle Vigne, il conte Ugolino, Virgilio, che nel libro ci sono tutti e vengono inquadrati nel loro contesto di riferimento. Ma soprattutto Cazzullo fa viaggiare Dante nei vari angoli d'Italia. Il suo è un vero e proprio viaggio in Italia. Non solo il libro di Cazzullo, ma anche la Divina Commedia. E Cazzullo vuole sottolineare proprio questo. E quindi troviamo Scilla e Cariddi, l'Etna, il Golfo del Quarnaro, il Lago di Garda, l'Arsenale di Venezia, le città della Toscana, Roma. C'è veramente tutto, perché Dante è la persona che ha creato l'Italia così come noi la conosciamo. E in questo suo viaggio Cazzullo cita ogni cosa, partendo dai cantautori italiani, da Battiato e Venditti, per giungere addirittura a Harry Potter. Segno che Dante è un vero e proprio fenomeno pop, forse inconsapevole, di cui noi non siamo perfettamente consci, ma che ci riguarda tutti benissimo, perché è sempre estremamente attuale. Lo stesso personaggio di Virgilio, che nel poema assume il ruolo di guida dello stesso Dante, ha assunto nella nostra contemporaneità il ruolo di guida internet, tanto che il suo nome è servito per un motore di ricerca. Dante parla di noi e del nostro tempo, oltre che del suo. Nel mezzo di cammin di nostra vita, si riferisce non solo a lui, dicendo nostra, si riferisce a tutti noi. A un'Italia che è quella del suo tempo, ma che è un'Italia eterna, che è anche la nostra Italia, che è attraversata dagli stessi vizi e dalle stesse virtù. Oggi possiamo vedere un'Italia attraversata da corruzione e divisione, esattamente come l'Italia del Trecento. Ma contemporaneamente l'Italia è riuscita sempre a farcela uscire dalle situazioni difficili. All'epoca riuscì a uscire dalla peste nera. La generazione seguente a Dante fu falcidiata dall'epidemia di peste nera. E la generazione ancora successiva creò il rinascimento. Cazzullo dice chiaramente che, guardando a questi modelli, gli italiani riusciranno a uscirne più forti di prima anche oggi, in tempi di epidemia di Covid. Insomma, abbracciamoci e vogliamoci tanto bene, perché noi italiani abbiamo delle risorse impensabili. Inventando l'Italia, Dante ci ha dato un'idea di noi stessi. Inoltre, ci ha dato anche l'italiano, una lingua da parlare. Oggi noi parliamo una lingua che, se non è esattamente uguale a quella di Dante, è però molto simile, perché parte tutto da lì. Dante ha inventato l'Italia come concezione e ha inventato anche l'italiano. Ci ha donato una lingua da parlare e una lingua che ci permette di esprimerci e di pensare in un determinato modo. E per questo tutto il libro di Cazzullo è attraversato da una serie di frasi classiche che utilizziamo anche noi e che trovano la loro origine proprio nella Divina Commedia, come per esempio starsene sola soletta, non letange, il bel paese, che è l'Italia, bel paese per eccellenza, essere degno di nota, cosa fatta capo a e il celeberrimo e uscimmo, infine, a rivederle stelle, che tra l'altro dà lo stesso titolo all'opera di Cazzullo. Noi parliamo come Dante, pensiamo come Dante, senza peraltro rendercene conto. Qua e là nel volume si leggono delle cose che non si vorrebbero leggere, come quando dice che Cristoforo Colombo attraversò l'oceano per scoprire il nuovo mondo, per dimostrare che la Terra non era piatta, ma era rotonda. Probabilmente Cazzullo non ha seguito la lezione di Alessandro Barbero sui miti e la leggenda nera del Medioevo, di cui quello della Terra piatta era uno dei più famigerati esempi. L'idea che a quel tempo fossero tutti convinti che la Terra è piatta. È bene chiarire che nessuno, a partire dall'antichità, fatta eccezione per gli americani dell'Ottocento, ha mai sostenuto che la Terra fosse piatta e non rotonda. È però affascinante l'interpretazione che dà Cazzullo del personaggio di Ulisse, cioè colui che non torna a casa, ma continua a viaggiare, attraversa le colonne d'Ercole alla ricerca di un paese straniero, un paese sconosciuto. Ulisse è Dante e nella sua ricerca infinita si vedono le stesse aspirazioni, pulsioni e maledizioni del personaggio di Dante, il ghibellin fuggiasco, costretto a vivere in esilio e a non rivedere mai più l'amata Firenze. Non manca neppure una nota sul proto-femminismo di Dante. Cazzullo ammette che, pur non potendo parlare di vero e proprio femminismo in Dante, si vede nella Divina Commedia e nel resto dell'opera di Dante un'attenzione nuova alla donna, vista in maniera molto moderna come l'essere che può salvare il genere umano. E quindi alla fine che dire di questo libro A rivedere le stelle di Aldo Cazzullo? Beh, che si tratta di un'ottima opera di divulgazione. Si può utilizzare come aggiunta a un normale libro di testo oppure può rappresentare un'ottima opzione per chi è totalmente digiuno di Dante e vuole avere un'infarinatura generale sull'inferno, perché questo libro è limitato all'inferno. Io sempre di più mi trovo ad apprezzare queste opere divulgative, soprattutto in un'epoca in cui pur avendo a disposizione l'intero scibile umano, le persone sono sempre più distanti e indifferenti a qualsiasi cosa. Se però invece dobbiamo fare un paragone con il libro di Barbero, la biografia di Dante, che ho già recensito, ecco, devo dire che il libro di Barbero è un'altra cosa. Io ho una formazione più storica e purtroppo devo dare la palma della vittoria all'opera di Barbero rispetto a un'opera buona ma scritta pur sempre da un giornalista come Cazzullo e che, volenti o nolenti, risulta estremamente superficiale se messa a paragone. L'opera di Barbero, pur non affrontando direttamente la Divina Commedia, è comunque capace di analizzarne degli aspetti che la mettono in relazione col tempo di Dante, con la vita di Dante. Penso agli episodi di Geri del Bello, quello di Farinata degli Uberti, quello di Cacciaguida e le posizioni politiche di Dante che si vedono nel convivio e nel De Monarchia come Dante ha cambiato la sua visione della nobiltà da una nobiltà d'animo a una nobiltà di sangue. Quando lui stesso, ormai fuggiasco, in esilio, ospite delle corti firimperiali, si trova anche lui un avo cavaliere e quindi anche lui, a pieno diritto, vanta una nobiltà di sangue trovando il parente nobile che gli dia il pedigree. Forse l'avevo già detto, questi sono particolari che mi fanno sempre amare Barbero, ma che sono capaci di illuminare la materia. Se io a scuola avesse avuto degli insegnanti che, capaci di dirmi queste semplici cose, parlando della Divina Commedia, probabilmente mi avrebbero aperto la mente molto di più di quello che hanno fatto. Perché la storia ci parla sempre, la storia parla di noi e i particolari che ci sono all'interno dei libri sono spesso da mettere in relazione alla società del tempo, alla situazione contingente, alle contingenze storiche ed economiche, politiche, e in questo caso quelle di Dante. Nonostante io preferisca quindi il libro di Barbero, mi sento di suggerire anche la lettura di questo Arrivederle Stelle di Aldo Cazzullo. Si tratta di due ottimi contributi che escono in un anno importante e che ci possono quindi accompagnare nelle celebrazioni dantesche, sperando che molti si avvicinino a questo autore, spesso odiato, spesso non considerato semplicemente perché ce lo fanno studiare a scuola e che invece dobbiamo dare ragione a Cazzullo. Ha veramente fondato una certa idea d'Italia e che ha profondamente plasmato la nostra mente e il nostro modo di pensare. Grazie a tutti.